È un'estate difficile per gli operatori turistici della Toscana, secondo un rapporto di Confesercenti. Complice l'ondata del maltempo e la situazione di crisi delle famiglie, calano le presenze di turisti nelle province di Arezzo e Pisa, a meno 5%, e Siena, a meno 2%. A soffrire è anche e soprattutto la costa tirrenica, che perde il 25% di presenze, la Versilia in particolare. È Firenze invece la città che tiene meglio grazie al suo patrimonio artistico. Tra chi visita la Toscana sono in aumento i turisti provenienti da Brasile, India, Cina e Russia. Crescono, ma limitatamente, i tedeschi, gli olandesi e i francesi, mentre calano spagnoli, greci e portoghesi. Secondo Confesercenti, il 25% dei toscani concentrerà le vacanze nella settimana di ferragosto. Troppo poco, comunque, per dare una boccata d'ossigeno agli operatori economici.